E' stata fissata per lunedì 16 settembre l'udienza di convalida del fermo nei confronti del presunto autore dell'omicidio di Giovanni Di Vito, il 28enne, ucciso giovedì sera in via Puccini ad Andria con un fendente inferto con un taglierino. Il responsabile, il 50enne Celeste Troia con piccoli precedenti di polizia, è stato intercettato poco dopo il delitto e poi trasferito in carcere a seguito del provvedimento emesso dal pubblico ministero della procura di Trani. L'uomo si sarebbe però solo difeso dall'aggressione della vittima che lo avrebbe rincorso dopo essere sceso dall'auto per scontrarsi fisicamente con lui. Un'ipotesi confermata dal legale del 50enne, l'avvocato Vincenzo Scenandrone, che sottolinea il fatto che il suo assistito abbia anche dei segni sul viso riportati proprio nell'aggressione. Alla base del ferimento mortale, secondo quanto è ricostruito finora dagli inquirenti, un violento litigio tra automobilisti per una mancata precedenza. La vittima era a bordo della sua vettura, una Chevrolet assieme alla moglie e al figlio di 5 anni, quando è scesa dal mezzo per scontrarsi, prima a parole e poi fisicamente, con l'autista di una Mercedes che precedeva la sua auto. Il 28enne è stato raggiunto da un fendente all'altezza del torace, una ferita molto profonda che ha resovana anche la corsa all'ospedale Bonomo, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Il taglierino è stato poi sequestrato nella macchina del 50enne. Sarà l'autopsia, disposta dal PM della procura di Trani, Alessio Marrangelli, a fare maggiore chiarezza sulla dinamica del drammatico fatto di sangue, ovvero se il presunto autore dell'omicidio abbia agito solo per difendersi o se invece aveva intenzione di uccidere il 28enne. Per il momento l'uomo resta rinchiuso nel carcere di Trani. L'ipotesi accusatoria è di omicidio volontario.